Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Eh, ma che segreti ci vuoi avere? Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri crollari. Sei d'accordo con me che stiamo a fare una cazzata? Ma è bellissima che... E poi? Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto, c'ho voglia di scovare. C'è la metto. Io, se hai un amante, non lo voglio sapere. Voglio il tuo corpo. Oh, mi dici da quanto dura! C'è la tua? No! Questo qua ormai è diventato la scatola nera della nostra vita. Gioco. Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato. And I'll survive! And I'll survive! Steve Jobs. Man era morto. Invece sarà vivo che non mi moglie.